Ciao ragazzi, oggi vi presento Giochi di Rishani, si chiama il super laboratorio degli primi 101 esperimenti. Sapete che cos'è 101 esperimenti? Praticamente possiamo giocare qui tutta la giornata solo con questa scatola, non solo una giornata, 101 esperimenti secondo me neanche in settimana non lo faremo, no? Perché per un esperimento sempre ci vuole almeno 10, 15, 20 minuti, perciò se 100 minuti 2.000 minuti, 2.000 minuti e 300 ore, 300 ore, oh ciao Alex. Ma sempre dici che giochiamo a giocare. No, ho dimenticato io, eccolo, è il nostro gioco di Rishani, si Alex? Non ti credo più. Si, cosa abbiamo qua? Abbiamo, non so che cos'è, un piccolo genio, genio al lavoro, abbiamo qualche gioco, abbiamo qui la seringa con sangue, non è il colore, abbiamo il vulcano, possiamo crescere qui, erba, si, c'è qualche laboratorio, due bottiglie di acqua, si, Il super laboratorio dei primi, va bene, dei primi, ok, dei primi, dei primi, dei primi, dei primi, dei primi, bene, allora, non vedo ora di aprirla, dobbiamo aprirla. Pau, quanta roba ragazzi, abbiamo due bottiglie di bottiglia, oh di plastica ragazzi. e ancora una puntura no, non mi servono le punture abbiamo terra, idrogeno carbonio coloranti oh, occhiali vuoi? oh, tu sei il dottore, dottore prendi gli occhiali, bravo e abbiamo tante tante cose qua dentro eccoci qua, tutto qua tutto qua oh, Alex, guarda quanta roba una donna oh, tubetto, 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 tubetto guarda guarda, guarda guarda, oh, buongiorno ti taglio la testa per due pezzi che cosa si vuole? tomm, 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 tomm basta robarle io è volata si è aparta poi un'altra volta o lippiamo noi lascia non si scherza ho capito per cosa servono per mettere nelle mani quando c'è il vulcano io cercavo un tubetto qua lo sai e non c'è io l'ho visto un esperimento che loro l'ho fatto lì proprio su quale facciamo l'esperimento Ale? il vulcano allora togliamo oggi facciamo 5 diversi esperimenti iniziamo con il vulcano sì Ale? Ale io con chi parlo? non ero io non ero te allora per il vulcano noi servono qui ci sono coloranti bicarbonio ecco tieni Alex basta occhiali perché non hai messo occhiali? perché non hai messo occhiali? ti ho chiesto io non li volevo mettere come non li volevo mettere? mi metti questa cosa per cosa ti serve? sì se costa un occhiali per non sporcarsi? sì ma io no allora Alex come si fa il vulcano? a noi serve idrogeno bicarbonato che dobbiamo mettere due cucchiai di qua dentro tieni Alex metti qua dentro due cucchiai di bicarbonato ce la fai da solo o lo faccio io? questa e dopo e io metto ok tu mischi no no ah sì io mischio ecco una mettiamo due ah e fa finta che questo è la neve perché tutti i vulcani hanno la neve no metti occhiali sennò questo esplode allora esplode mettiamo questo qua così questo è troppo grande cosa è grande? occhiali troppo grande? sì no troppo grande occhiali tu c'hai allora qui abbiamo colorante dobbiamo mettere un pochettino di colorante colorante di colore rosso così ah l'alava questa l'alava sì l'alava abbiamo messo l'alava e penso che è il sale e non sale sale di limone posso il limone? fai così no fai così adesso prendi sì 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 ma sale di limone tu come voli viale limone suga di limone solo che se sì sì limone vabbè sì 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 e mettiamo anche qui esclambo buono buono vero cosa vero? buonissimo buonissimo Alex devi mischiare dai lentamente così allora dobbiamo anche prendere un po' di l'acqua pam 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 quella cosa rossa che cosa è? dove? rossa quella colorante colorante mettiamo un po' di l'acqua però a noi non serve così tanta tanta l'acqua però hai mischiato? sì faccio io prima perché tu non sei andato al profondo vedi per quanto bianco ancora c'è così non esce niente il nostro volcano dobbiamo mischiare bene ragazzi perché importa molto come avete mischiato voi tutto allora aggiungiamo un altro un po' di limone ancora? sì che piace Alex apre un po' di limone che allora vedi che non si prende perché non si prende perché non si prende prima il dito dai viloci che la 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 adesso faremo vulcano ragazzi adesso mi interessa volta non ti fa niente perché? non lo so non ti fa niente no è vero 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 ecco abbiamo mischiato ragazzi adesso adesso tocca fare il nostro esperimento oh cosa ho trovato io? rame sulfato rame sulfato tu non conosci prendi idrato gas number io non so che cos'è dobbiamo leggere c'è qualcosa qui interessante ci può fare una bomba facciamo vulcano? sì sei pronto? sì allora Alex prendi tieni l'acqua tua bene 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 bravo adesso ragazzi guardate questo vulcano mette l'acqua dentro dai piano guardate ragazzi dai 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 pivillotti 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 vulkano ragazzi arriva arriva vulcano ancora vulcano ragazzi ancora 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 veloce perché esplodile l'altro vulcano sì 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 dai 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 guardate ragazzi тут rosso magma lava ancora l'acqua mete ancora avete visto ragazzi vulcano iniziato a vivere ancora basta basta così vedete ragazzi qui non si vedono aspetta che io provo girare verso di loro così loro vedono che noi vediamo loro no vedete come esce la lava tutta da sotto è già rosso tutto alex in lava aggiungiamo un po un po di acqua troviamo si pieno pieno tu prova mentre vediamo cosa succede si va o non si va questo vulcano va ancora proviamo a mischiare lì dentro cosa succede ecco partito si partito ancora forse abbiamo mischiato lì dentro guardate c'è una esplosione del vulcano lì dentro l'acqua alex si tu hai paura di vulcano ragazzi che abita vicino a etna che abita vicino a Vesuvio ragazzi voi avete visto il vulcano alex ancora no dobbiamo andare sì questo è stato che saranno andremo si dai ancora fai finiamo tutto questo vulcano si adesso ragazzi faremo un altro esperimento con l'acqua si alex finisci questo vulcano guarda c'è ancora no no tutto trasparente dovrebbe essere ormai finito il nostro vulcano finito proviamo a mischiare no non c'è niente non c'è ancora no 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 finito finito proviamo adesso sarà ragazzi un altro esperimento più interessante ecco ragazzi seconda il nostro esperimento dopo il dopo il cosa stai facendo Seconda giglio... insidio sappiamo nell'acqua da che viene un po' di colorante sapechche perché perché il nostro alacqua non si vede sp transparente non si vede si ragazzi non si vede sì ragazzi non si vede si ospita così oggi io idio una adesso io chiudo un'altra questo ragazzi è un bel awesome per fare cosa fare cosa fare cosa lo faremo esatto tornato perché non va perché non va eccoci qua ci siamo ci siamo adesso alex gira e prova a fare il tornado ce la fai così devi fare guardate ragazzi il tornado vedete che qui il tornado che va però capisco che voi non vedete bene questo tornato adesso scende tutto giù perché volete vedere una cosa guardate come aspetta aspetta no 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 vedete come lentamente scende l'acqua così sono fermata vedete l'acqua già non scende sapete perché perché qui c'è un buco piccolo e aria non può andare invece quando noi facciamo tornato vedo vedo che perdi l'acqua però adesso andrà guarda tornato posso rimettiamo qualcosa da dentro aspetta che dobbiamo prima di chiudere questa bottiglia ecco fai tornato rifacciamo dai provate da solo dai gira gira devi girare basta proviamo eccolo fai vedere a tutti non alza così troppo in su ecco il nostro tornato dobbiamo rifare ragazzi dobbiamo fare rifare 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 alex li facciamo ma non è finito tornato ancora tu vai scendi giù scendi giù scendi giù no faccio io stavolta tornato eccolo il nostro tornato vedete ragazze qui come va perché non mettiamo qualcosa così si gira come si gira cosa si gira palloncini schifito no schifito come si chiama se stavolta tornato ok i stavolta tornato ai stavolta tornato nel tono si stavolta tornato giù scendi come si fai il più alto tornato di proviamo alex tornato tornato è ci proviamo alex Dovamo e metti l'anomo qui Questo di qua E con questa fai così Dai, Alex! Cosi, costi Lati, presti, presti Dai, dai, fai Dai, farmi No, dai... Ecola! Dìu Wow, ma questo StrawberryTornado ragazzi LA ERE Grazie a tutti.